Il grido d'allarme il sindaco Michele Emiliano l'aveva lanciato giorni fa. I tagli del governo mettono a rischio la cultura del comune di Bari e quindi le iniziative ad essa connesse. Tra questi il premio Tatarella, per cui Emiliano aveva chiesto addirittura l'intervento di regione e provincia. Eppure oggi ci rassicurano che i fondi per l'importante appuntamento letterario si troveranno. Ma dove e come? Di certo non c'è ancora niente se non la sola volontà di volerlo realizzare. Ma per acquistare le copie dei libri dei finalisti nominati dalla giuria e realizzare poi l'iniziativa non basta la sola buona volontà. Intanto per la narrativa sono stati scelti Strane cose domani di Raul Montanari, edizione Baldini Cassol di Dalai, Stirpe di Marcello Fuà, edizione Enaudi, Il libro della gioia perpetua di Emanuele Trevi, Rizzoli editore, Sono comuni le cose delle amici di Matteo Nucci, casa editrice Ponte alle Grazie, A di Aldo Busi, buon piano editore. La giuria scientifica presieduta da Walter Pedullà ha individuato poi le tre opere di saggistica, Bella e perduta l'Italia del risorgimento di Lucio Villari, editrice La Terza, Bomboro Bespierre di Sergio Luzzato e Inaudi editore, Lo scisma di Riccardo Chaberg, longanesi editore. Una menzione speciale è stata attribuita al dizionario gramsciano di Liguori Evoza, edizione Carocci. Ora l'ardua sentenza passa ai giovani, agli studenti delle scuole, alla giuria dei lettori, che tra settembre ed ottobre leggeranno i libri e stabiliranno il vincitore. La premiazione, riferiscono dall'assessorato alle culture del Comune di Bari, avverrà i primi di dicembre.